il suo sostene era un libero pensatore come ce ne sono tanti altri un libero pensatore per stupidità si può essere anche religiosi alla stessa maniera la semplice vista ad un prete lo faceva schiumare di rabbia mostrava i pugni faceva le corna toccava ferro dietro la schiena che indica già una certa fede quella nella iettatura ebbene quando si tratta di fedi che non hanno una spiegazione razionale o bisogna averle tutte o non bisogna averne alcuna sono anch'io un libero pensatore cioè un ribelle contro ogni dogma inventato dalla paura di morire ma non me la prendo mica con le chiese siano esse cattoliche apostoliche romane protestanti russi ortodosse greche buddiste ebraiche musulmane e poi ho un modo particolare di considerarle di trovare una spiegazione alla loro esistenza una chiesa è un atto di omaggio verso l'ignoto quanto più il pensiero allarga i suoi orizzonti tanto più si restringono quelli dell'ignoto e allora le chiese crollano io metterei al posto degli incensieri dei telescopi dei microscopi e delle macchine elettriche tutto qui lo zio io eravamo in disaccordo quasi su tutto lui era nazionalista mentre io non lo sono perché anche il patriottismo è una sorta di religione è il germe di tutte le guerre lo zio era massone per me i massoni sono più stupidi delle vecchie beghine questa è la mia opinione e la sostengo se fossi proprio costretto ad abbracciare una religione lo farai con quella antica gli sciocchi sono solo la scimmiottatura dei preti quegli sciocchi sono solo la scimmiottatura dei preti hanno per simbolo un triangolo anziché la croce le loro chiese si chiamano logge con innumerevoli culti diversi il rito scozzese quello francese il grande oriente una massa di fandonie che mi fanno scoppiare dalle risate e poi che vanno cercando aiutarsi fra di loro facendoci il solletico nel palmo della mano io non ci trovo niente di male hanno messo in pratica il precetto cristiano aiutatevi l'un con l'altro ma vale la pena di sopportare tanti cerimoniali per prestare uno scudo a un poveretto i preti per i quali assistenza ed elemosina costituiscono un dovere e un mestiere scrivono in testa le loro lettere jmj i massoni mettono tre punti in coda al loro nome vanno perfettamente d'accordo questi compari lo zio mi rispondeva è vero noi mettiamo una religione contro l'altra il libero pensiero è l'arma con la quale faremo fuori il clericalismo la massoneria è il fortino dentro cui combatte ogni demolitore della divinità ma io replicavo ma caro zio dentro di me dicevo vecchia ciabatta è proprio questo il rimprovero che vi rivolgo voi non distruggete vi limitate a organizzare una concorrenza avete ribassato i prezzi tutto qui e poi se ammetteste tra voi solamente liberi pensatori potrei ancora capire ma voi ammettete tutti tra voi ci sono una quantità di cattolici anche tra i dirigenti prima di diventare papa anche pio nono fu della vostra società se per voi un gruppo composto in questo modo è un fortino contro il clericalismo io dirai piuttosto che è un bordello aperto a tutti lo zio allora faceva l'occhietto e replicava la nostra vera azione la nostra azione più decisa è in politica qui in maniera continua e sicura stiamo abbattendo l'idea della monarchia a quel punto non ce la facevo più a sopportarlo ma sì vai furbi se mi dite che la massoneria è un'organizzazione elettorale posso anche essere d'accordo non sarò certo io a negare che è una macchina chiappa voti per i candidati di qualsiasi tendenza e che ha il solo scopo di prendere in giro il popolo intruppandolo per farlo andare alle urne proprio allo stesso modo con cui vengono mandati a combattere i soldati sì sono d'accordo anche su questo che è utile perfino indispensabile a ogni ambizione politica visto che è capace di trasformare ogni aderente in un agente elettorale e ve lo griderò io stesso è chiaro come il sole ma pretendere che serva ad abbattere l'idea della monarchia fa ridere i polli pensate solamente a questa grande e misteriosa associazione democratica che in francia ha avuto come gran maestro il principe napoleone sotto l'impero che in germania ha come gran maestro il principe ereditario in russia il fratello dello zar e sono massoni re d'italia umberto primo e il principe di galles e tutti i capoccioni con una corona in testa che sono in questo mondo lo zio mi sussurrava all'orecchio in questo caso è vero ma senza che lo sappiano tutti questi principi servono per la realizzazione dei nostri progetti ma anche viceversa o no e fra me e me aggiungevo branco di coglioni quando lo zio sostene invitava a pranzo un altro massone era uno spettacolo si andavano incontro si toccavano le mani con un'aria misteriosa e ridicola era evidente che si stavano facendo l'un l'altro tutta una serie di pressioni segrete quando volevo mandare fuori dai ganghieri lo zio ma era sufficiente ricordargli che anche i cani hanno modo tipicamente massonico di riconoscersi poi lo zio portava il suo amico in un angolino della casa come per fargli confidenza importanti a tavola seduti di fronte avevano un certo modo di guardarsi di incrociare gli sguardi di bere con occhiate allusive come se ripetessero e siamo capiti vero e pensare che al mondo milioni di persone si divertono a fare questi giochetti io piuttosto preferirai diventare gesuita nella nostra città abitava appunto un vecchio gesuita che era la bestia nera dello zio sostene ogni volta che li incontrava o che soltanto lo scorgeva in lontananza mormorava furfante e prendendomi sotto braccio mi sussurrava all'orecchio vedrai che un giorno all'altro quel birbaccione mi farà del male ne ho il presentimento lo zio diceva la verità ecco come per colpa mia si svolsero i fatti eravamo vicini alla settimana santa allora lo zio ebbe l'idea di organizzare un pranzo di grasso per il venerdì un vero e proprio banchetto a base di cotechini e di salsicce resistete finché potrei dicevo mangerò di grasso anche quel venerdì come sempre ma da solo e a casa mia un'esibizione simile mi sembra stupida per qual motivo che fastidio vi possono dare le persone che in quel giorno non mangiano carne vuotenne duro invitò tre amici nel ristorante più rinomato della città poiché era lui a pagare non mi rifiutai di partecipare anche io alle quattro avevano occupato una posizione bene in vista al ristorante penelope quello che è meglio frequentato a voce alta lo zio sostene elencava la lista dei cibi cominciamo alle sei alle dieci eravamo ancora a tavola in cinque avevamo bevuto diciotto bottiglie di vino di qualità più quattro di spumante e a quel punto lo zio propose quella che chiamava la bevuta dell'arcivescovo ognuno doveva mettere davanti a sé sei bicchierini che venivano riempiti di vari liquori bisognava vuotarli uno dopo l'altro mentre uno dei presenti contava fino a venti una vera cretinata ma secondo lo zio intonata la ricorrenza alle 11 era ubriaco fradicio dovemmo ricondurlo a casa sua in carrozza e metterlo a letto si poteva già prevedere che la sua esibizione anticlericale avrebbe avuto come conclusione una tremenda indigestione mentre me ne tornavo a casa sbronzo pure io ma di una sbronza allegra mi venne in mente un'idea degna di macchiavelli del tutto ispirata dal mio istinto discettico incallito mi aggiustai la cravatta atteggiai il viso a disperazione e andai a suonare alla porta del vecchio gesuita era sordo dovetti aspettare ma i miei calici facevano tremare tutta la sua casa alla fine si affacciò alla finestra con la papalina in capo chiedendo chi mi vuole gridai presto reverendo padre presto c'è un malato in fin di vita che richiede il vostro santo ministero quel poverino si infilò alla svelta i pantaloni e si precipitò giù senza mettere neanche la sottana con voce rotta dall'emozione gli raccontai che mio zio il libro pensatore era stato colto da un malore improvviso e tremendo che faceva prevedere un male gravissimo e che nella gran paura della morte voleva vederlo voleva parlare con lui voleva ascoltare i suoi consigli conoscere meglio la fede riaccostarsi alla chiesa e di sicuro confessarsi e comunicarsi per varcare la soglia fatale in pace con se stesso con un tono ironico conclusi lo vuole lui se non gli farà bene male non gliene farà di certo il vecchio gesuita sgomento e felice mi disse tremando d'emozione aspetta un minuto solo caro figliuolo vengo subito lo aggiunsi chiedo perdono reverendo ma non ho intenzione di accompagnarvi le mie convinzioni non lo consentono se devo essere sincero avevo perfino rifiutato di venirvi a chiamare per cui vi prego di non dire che mi avete veduto ma che avete saputo del grave malore dello zio per una specie di rivelazione il vecchio consentì e andò a suonare passo svelto alla porta dello zio sostene la serva che stava assistendo lo zio aprì subito e io vidi quella sottana nera sparire dentro la roccaforte del libero pensiero in condizioni normali lo zio avrebbe accoppato il gesuita ma in quel momento era incapace di alzare un braccio e perciò mi domandavo in un delirio di allegria quale scena imprevedibile si sarebbe svolta tra i due rivali quale lotta quale spiegazione quale stupore quale intrigo e che scioglimento avrebbe avuto la storia senza via ed uscita e resa ancora più drammatica dall'indignazione di mio zio stavo ridendo a crepa pelle da solo mentre ripetevo tra me e me che bello scherzo che bello scherzo cominciava a far freddo e il gesuita non usciva pensai continuano le spiegazioni passò un'ora poi due poi tre il reverendo padre non usciva che era successo allo zio era venuto un colpo appena l'aveva visto oppure aveva fatto fuori quell'uomo in sottana o forse si erano divorati tra di loro quest'ultima ipotesi mi pareva improbabile in quanto lo zio non era in grado di mandare giù nemmeno un grammo di una cosa qualsiasi spuntò il giorno ero preoccupato ma non osavo entrare quando mi ricordai che un mio amico abitava proprio lì davanti ci andai gli raccontai tutto provocando il suo sballordimento e le sue risa e poi mi appostai alla finestra alle nove l'amico mi il cambio e io dormì per un po alle due mi appostai di nuovo eravamo entrambi sconvolti e gesuita uscì alle sei tranquillo e soddisfatto lo vedemmo allontanarsi in gran tranquillità vergognandomi un po e intimorito andai a suonare alla porta dello zio mi aprì la serva non ebbi il coraggio di chiederle nulla e salì senza fare domande lo zio sostene era a letto pallido sciupato abbattuto lo sguardo triste le braccia penzoloni alla cortina del letto c'era attaccato con uno spillo un santino nella camera si sentiva una greve puzza di vomiticcio chiesi come mai a letto zio non vi sentite bene sono stato malissimo figolo mio quasi quasi me ne andavo all'altro mondo che mi dite non so è molto strano ma la cosa più strana è che quel padre gesuita che è andato via da poco sai quella brava persona che m'era tanto antipatica ha avuto la rivelazione di come stavo ed è venuto a trovarmi mi venne una voglia di ridere irresistibile davvero sì è venuto qui ha udito una voce che gli comandava di alzarsi e di recarsi qui perché io stavo in punto di morte una rivelazione finci di starnutire per non scoppiare mi sarei rotolato per terra dopo un attimo ripresi con aria indignata da cui trepelava qualche accento gaio e voi zio l'avete fatto entrare voi un libero pensatore un massone non l'avete cacciato parve confuso balbettò senti era un fatto straordinario straordinario e provvidenziale mi ha parlato anche di mio padre che lui ha conosciuto tanto tempo fa vostro padre sì pare che l'abbia conosciuto ma non è un motivo per far entrare in casa un gesuita lo so ma mi sentivo così male così male e lui mi ha curato per tutta la notte con quale dedizione è stato perfetto mi ha salvato sai quelli là sono anche un po medici e così va curato per tutta la notte ma prima non mi avete detto che è andato via appena poco fa è vero poiché è stato così gentile nei miei confronti l'ho invitato a colazione ha voluto mangiare su un tavolinetto qui accanto al letto mentre io bevevo una tazza di tè e ha mangiato carne lo zio ebbe un gesto di stizza come se avessi detto qualcosa di profondamente irriverente e proseguì non scherzare gaston questi scarsi sono fuori posto in questa circostanza quella persona ha avuto per me maggiori premure ad un parente e desidero che le sue profonde convinzioni siano rispettate ero a terra risposi d'accordo zio e dopo mangiato cosa avete fatto di bello una partitina a carte poi lui ha recitato il breviario mentre io leggevo un libretto che aveva portato con sé e che non è scritto niente male un libro religioso zio sì e no anzi no era la storia delle loro missioni nell'africa centrale quasi un libro di viaggi e di avventure hanno fatto cose egrese laggiù sembrava che le cose volgessero al peggio mi alzai allora zio vi saluto vedo che avete abbandonato la massoneria per la religione siete un rinnegato sembrò nuovamente confuso e sussurrò ma anche la religione è una specie di massoneria mi chiesi quando torna il gesuita lo zio balbettò non lo so forse domani ma non è sicuro uscì al colmo dello sballordimento il mio scherzo è finito malissimo lo zio si è convertito completamente e fin qui poco male plericale o massone se non ha zuppa e pan bagnato ma la cosa peggiore è che ha rifatto il testamento sì e mi ha diseredato caro mio in favore del reverendo padre gesuita grazie a tutti grazie a tutti